E' possibile vivere un'esperienza unica come quella di osservare la terra delle gravine dall'alto? La risposta è sì, grazie alla seconda edizione del Canyon Balloon Festival, che per il 2024 ha già annunciato importanti novità. Tra queste, l'allargamento del perimetro dei comuni coinvolti da 4 si è passati a 5, Palagiano, Ginosa, Castelaneta, la terza e l'ingresso di Palagianello. Le mongolfiere confermano la grande attenzione che c'è verso il paesaggio pugliese. Questa seconda edizione ci permette di ribadire quanto sia ricca la nostra regione e quanto si possa guardare anche a zone dell'entroterra, che paesaggisticamente e naturalisticamente sono davvero straordinarie. La terra delle gravine non è soltanto bella da attraversare a piedi o in bicicletta, ma è anche bella guardare dall'alto. Un sogno a occhi aperti da vivere dall'alto, con il naso all'insù, per godere del cielo che sarà costellato dalle mongolfiere, ma anche guardando la Puglia dall'alto, grazie all'esperienza da vivere in volo. La Puglia dall'alto è bellissima alla fine. L'abbiamo messo nel claim, volare appunto citando Modugno. Quest'anno ci aspettiamo molte più iniziative. Ovviamente attiveremo dei percorsi di attività sportive con Decathlon, anche Puglia organizzeremo delle attività di villaggio dello sport. Poi ci saranno attività laboratoriali con gli aquiloni, escursioni a cavallo, uscite in barca. Sarà veramente ricca di attività che si proporranno durante tutte le iniziative, tutti gli appuntamenti. Ovviamente però dal 4 al 6 ottobre ci sarà un maggior numero di palloni, proprio perché c'è la possibilità di volare solo in quel periodo, quindi dal 1 settembre al 31 di dicembre.